Sura ventisettesima Ta-sin Ecco i versetti del Corano e di un libro chiarissimo. Guida e buona novella per i credenti, che assolvono all'orazione, pagano la decima e credono con fermezza all'altra vita. Quanto a coloro che non credono nell'altra vita, facemmo sembrare belle le loro azioni, sì che procedessero alla cieca. Appartiene a loro il peggiore dei castighi e nell'altra vita saranno i più grandi perdenti. Certo tu ricevi il Corano da parte di un saggio, un sapiente. Ricorda quando Mosè disse alla sua famiglia, ho visto un fuoco, vi porterò notizie di esso o tornerò con un tizione acceso affinché vi possiate riscaldare. Quando vi giunse fu chiamato. Sia benedetto colui che è nel fuoco e che è attorno ad esso. E gloria ad Allah, Signore del creato. O Mosè, in verità io sono Allah, l'eccelso, il saggio. Getta il tuo bastone. Quando lo vide contorcersi come fosse un serpente, volse le spalle, ma non tornò sui suoi passi. Non aver paura, Mosè. Gli inviati non hanno niente da temere nei miei confronti. Hanno da temere soltanto coloro che sono stati ingiusti. Ma per coloro che sostituiscono il male con il bene, in verità, io sono perdonatore, misericordioso. Infila la tua mano nell'apertura della tua tunica. La trarrai bianca senza male alcuno. È uno dei nove segni destinati a Faraone e al suo popolo. Essi sono davvero un popolo di empi. Quando poi giunsero loro i nostri segni evidenti, dissero Questa è magia evidente. Ingiusti e orgogliosi li negarono, anche se intimamente, ne erano certi. Guarda cosa è accaduto ai corruttori. Già ad emmoscenza a Davide e a Salomone. Dissero L'ode ad Allah che ci ha concesso eccellenza su molti dei suoi servi credenti. Salomone succedette a Davide e disse O uomini, ci è stato insegnato il linguaggio degli uccelli e ci è stata data abbondanza di ogni cosa. In vero, questa è grazia evidente. Furono riunite per Salomone le sue schiere di demoni, di uomini e di uccelli e furono allineate in ranghi distinti. Quando giunsero alla valle delle formiche, una formica disse O formiche, rientrate nelle vostre dimore che non vi schiaccino inavvertitamente Salomone e le sue truppe. Salomone sorrise a queste sue parole e disse Concedimi, o Signore, di esserti grato per il favore che hai concesso a me, a mio padre e a mia madre e concedimi di compiere il bene che tu gradisci e per la tua misericordia fammi entrare tra i tuoi virtuosi servitori. Passò in rivista gli uccelli e disse Perché mai non vedo l'upupa? È forse tra gli assenti? Le infliggerò un severo castigo o la sgozzerò a meno che non adduca una valida scusa. Ma non tardò ancora per molto. Disse Ho appreso qualcosa che tu non conosci. Ti porto notizie certe sui Saba. Ho scoperto che una donna è loro regina che è provvista di ogni bene e che possiede un trono magnifico. Lo scorta a prosternarsi insieme col suo popolo davanti al sole invece che ad Allah. Satana ha reso belle le loro azioni agli occhi loro li ha sviati dalla retta via e non hanno guida alcuna. Perché mai non si prosternano dinnanzi ad Allah che svela ciò che è nascosto nei cieli e sulla terra e che conosce quel che celate e quel che palesate? Allah non c'è Dio all'infuori di lui il Signore del trono immenso. Disse Salomone Presto vedremo se hai detto la verità o se hai mentito. Va con questa mia lettera e falla cadere su di loro mettiti poi in disparte e aspetta ciò che le sarà risposto. Disse la regina O notabili mi è stata fatta pervenire una nobile lettera. Giunge da Salomone dice In nome di Allah il compassionevole il misericordioso non siate arroganti nei miei confronti e venite a me sottomessi ad Allah. Disse O notabili datemi il vostro parere su questo affare non prendo mai una decisione a vostra insaputa. Risposero Disponiamo di forza e temibile determinazione la decisione spetta a te stabilisci dunque quello che vuoi ordinare. Disse In verità quando i re penetrano in una città la saccheggiano e riducono in miserie i più nobili dei suoi abitanti è così che agiscono Io gli invierò un dono e valuterò ciò che i messi riporteranno Quando giunsero presso Salomone e gli disse Volete forse lusingarmi con le ricchezze? Ciò che Allah mi ha concesso è meglio di quello che ha concesso a voi No siete voi che vi gloriate del vostro dono Ritornate dei vostri Marceremo contro di loro con armate alle quali non potranno resistere e li scacceremo umiliati e miserabili Disse Salomone O notabili chi di voi mi porterà il suo trono prima che vengano a me sottomessi? Unifrit tra i demoni disse Te lo porterò prima ancora che tu ti sia alzato dal tuo posto Ne sono ben capace e son degno di fiducia Uno che aveva conoscenza del libro disse Te lo porterò prima ancora che tu possa battere ciglio Quando poi Salomone lo vide posarsi presso di sé disse Questo è parte della grazia del mio Signore per mettermi alla prova e vedere se sarò riconoscente o ingrato Quanto a chi è riconoscente lo è per se stesso e chi è ingrato sappia che il mio Signore basta a se stesso ed è generoso e disse Rendetele irriconoscibile il suo trono vedremo se lo riconoscerà o se fa parte di coloro che non sono guidati Quando giunse le fu detto è questo il tuo trono? Rispose Sembrerebbe che lo sia Disse Salomone Già ci fu data la scienza e già fumo sottomessi ad Allah Ciò che adorava all'infuori di Allah l'aveva distolta In vero faceva parte di un popolo miscredente Le fu detto Entra nel palazzo Quando lo vide credette che fosse un'acqua profonda e si scoprì le gambe Allora Salomone disse È un palazzo lastricato di cristallo Disse quella Signore sono stata ingiusta nei miei stessi confronti Mi sottometto con Salomone ad Allah Signore dei Mondi Ai Samud inviammo il loro fratello Sale Disse Adorate Allah Invece si divisero in due gruppi in discordia tra loro Disse Oh popolo mio perché volete affrettare il male piuttosto che il bene Perché non chiedere il perdono ad Allah affinché vi usi misericordia Dissero In te e in coloro che sono con te vediamo un uccello di mal augurio Disse Il vostro augurio dipende da Allah Siete un popolo messo alla prova Nella città c'era una banda di nove persone che spargevano corruzione sulla terra e non facevano alcun bene Dissero giurando fra loro in nome di Allah Attaccheremo di notte lui e la sua famiglia Poi diremo a chi vorrà vendicarlo Non siamo stati testimoni dello sterminio della sua famiglia Davvero siamo sinceri Ordirono una trama e noi ordimmo una trama senza che se ne accorgessero Guarda cosa ne è stato della loro trama Li facemmo perire insieme con tutto il loro popolo Ecco le loro case in rovina a causa dei loro misfatti Questo è certo un segno per la gente che ha conoscenza E salvammo coloro che avevano creduto ed erano timorati E ricorda Lot quando disse al suo popolo Vi darete la turpitudine pur riconoscendola? Vi accosterete agli uomini piuttosto che alle femmine per placare vostro desiderio? Siete davvero un popolo ignorante? La risposta del suo popolo fu solo Scacciate dalla vostra città la famiglia di Lot È gente che pretende di essere pura Lo salvammo insieme con la sua famiglia eccetto sua moglie per la quale decidemmo che fosse tra coloro che sarebbero stati annientati Facemmo scendere su di loro una pioggia Una pioggia orribile su coloro che erano stati in vano avvertiti D Lode ad Allah e pace sui suoi servi che ha prescelti È migliore Allah o quel che gli associano? Egli è colui che ha creato i cieli e la terra e dal cielo ha fatto scendere per voi un'acqua per mezzo della quale noi abbiamo fatto germogliare giardini irrigogliosi i cui alberi voi non sapreste far germogliare Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? No Quella è gente che attribuisce uguali ad Allah Non è lui che ha fatto della terra uno stabile rifugio che vi ha fatto scorrere i fiumi vi ha posto immobili montagne e stabilito una barriera tra le due acque? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? No La maggior parte di loro non sanno Non è lui che risponde quando l'affranto lo invoca che libera dal male che ha fatto di voi il luogo tenente sulla terra? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Quanto poco riflettete Non è lui che vi guida nelle tenebre della terra e del mare colui che invia i venti in unzi della buona novella che precedono la sua misericordia? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Allah è ben più alto di ciò che gli associano Non è lui che ha dato inizio alla creazione e la reitera? Colui che vi nutre dal cielo e dalla terra? Vi è forse un'altra divinità assieme ad Allah? Di producete la vostra prova se siete veridici di nessuno di coloro che sono nei cieli e sulla terra conosce l'invisibile eccetto Allah e non sanno quando saranno risuscitati La loro conoscenza dell'altra vita è nulla sono in preda ai dubbi sono del tutto ciechi in proposito I miscredenti dicono quando saremo polvere noi e i nostri avi veramente saremo risuscitati? Già ci è stato promesso a noi e ai nostri avi non sono che favole degli antichi D Viaggiate sulla terra e considerate quale fu la sorte degli iniqui Non ti affliggere per loro non essere angosciato per le loro trame Dicono quando si realizzerà questa promessa se siete veridici D Forse parte di quel che volete affrettare è già imminente In verità il tuo Signore è pieno di grazie per gli uomini ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti In verità il tuo Signore conosce quello che celano i loro petti e ciò che palesano Non c'è nulla di occulto nel cielo e sulla terra che non sia in un libro chiarissimo Questo Corano narra ai figli di Israele la maggior parte delle cose sulle quali divergono mentre è per i credenti guida e misericordia In verità il tuo Signore giudicherà tra di loro col suo giudizio Egli era eccelso il saggio Confida dunque in Allah Tu sei davvero nella verità chiarissima Certo non puoi far sentire i morti e neppure far sentire ai sordi il richiamo quando fuggono voltando le spalle E neppure potrai trarre i ciechi dal loro sviamento Solo ti potrai far ascoltare da coloro che credono nei nostri segni e si sottomettono Quando il decreto cadrà loro addosso faremo uscire per loro una bestia dalla terra Essa proclamerà che gli uomini non erano convinti della verità dei nostri segni In quel giorno riuniremo da ogni comunità una massa di coloro che tacciarono di menzogna i nostri segni e saranno divisi in schiere Quando saranno colà Allah dirà avete tacciato di menzogna i miei segni senza neppure conoscerli Che cosa dunque avete fatto Il decreto cadrà loro addosso perché furono ingiusti e non parleranno più Non hanno forse visto che in verità abbiamo fatto la notte affinché riposino in essa e il giorno affinché vedano con chiarezza In vero questi sono segni per un popolo che crede E nel giorno in cui sarà soffiato nella tromba saranno atterriti tutti coloro che sono nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra eccetto coloro che Allah vorrà Tutti torneranno a lui umiliandosi E vedrai le montagne che ritieni immobili passare come fossero nuvole Opera di Allah che rende perfetta ogni cosa Egli è ben informato di quello che fate Chi verrà con il bene avrà qualcosa ancora migliore In quel giorno saranno al sicuro dal terrore E coloro che verranno con il male avranno i volti gettati nel fuoco Siete compensati diversamente da quel che avete operato? In verità mi è stato solo ordinato di adorare il Signore di questa città che egli ha resa inviolabile A lui tutto appartiene e mi ha comandato di essere uno dei musulmani e di recitare il Corano Chi segue la retta via lo fa suo vantaggio e di a chi si svia Io non sono altro che uno degli ammonitori Di La lode appartiene ad Allah Presto vi farà vedere i suoi segni e li riconoscerete Il tuo Signore non è incurante di quello che fate Sura ventottesima Ta Sin Mim Questi sono i versetti del libro Chiarissimo Ti racconteremo secondo verità la storia di Mosè e di Faraone per un popolo di credenti Davvero Faraone era altero sulla terra Divise in fazioni i suoi abitanti per approfittare della debolezza di una parte Sgozzava i loro figli maschi e lasciava vivere le femmine In verità era uno dei corruttori Invece noi volevamo colmare di favore quelli che erano stati oppressi farne delle guide e degli eredi Volevamo consolidarli sulla terra e loro tramite far vedere a Faraone e Haman e alle loro armate quello che paventavano Riverammo alla madre di Mosè Allattalo e quando temerai per lui gettalo nel fiume e non temere e non essere afflitta Noi te lo restituiremo e faremo di lui uno degli inviati Lo raccolse la gente di Faraone sì che potesse diventare loro nemico e causa di tristezza Davvero Faraone e Haman e le loro armate erano colpevoli Disse la moglie di Faraone Questo bambino sarà la gioia dei miei occhi e dei tuoi non lo uccidete forse ci sarà utile o lo adotteremo come un figlio Non avevano alcun sospetto Il cuore della madre di Mosè fu come fosse vuoto Poco mancò che non svelasse ogni cosa se non avessimo rafforzato il suo cuore sì che rimanesse credente Disse alla di lui sorella Seguilo E quella lo osservò di nascosto Non avevano alcun sospetto E noi gli interdicemmo ogni nutrice Allora la sorella disse Posso indicarvi la gente di una casa che potrà occuparsene per conto vostro e che gli sarà benevola Lo restituimmo a sua madre affinché si consolassero i suoi occhi non fosse più afflitta e si convincesse che la promessa di Allah è verità ma la maggior parte di loro non sanno nulla Quando raggiunse l'età adulta e il pieno del suo sviluppo gli demmo discernimento e scienza così ricompensiamo coloro che operano il bene Avvenne che entrando in città in un momento di disattenzione dei suoi abitanti trovò due uomini che si battevano uno era dei suoi e l'altro uno degli avversari quello che era dei suoi gli chiese aiuto contro l'altro dell'avversa fazione Mosè lo colpì con un pugno e lo uccise disse Mosè questa è certamente opera di Satana è davvero un nemico uno che svia gli uomini disse Signore ho fatto torto a me stesso perdonami gli perdonò egli è il perdonatore il misericordioso disse mio Signore grazie ai favori che mi hai allargito non sarò mai un alleato degli iniqui l'indomani era nella città timorosa e guardingo ed ecco che colui che il giorno prima gli aveva chiesto aiuto di nuovo lo chiamò a gran voce gli disse Mosè davvero sei un provocatore evidente quando poi stava per colpire quello che era avversario di entrambi questi disse oh Mosè vuoi uccidermi come l'uomo che uccidesti ieri? non vuoi essere altro che un tiranno sulla terra non vuoi essere uno dei conciliatori dall'altro capo della città giunse correndo un uomo disse oh Mosè i notabili sono riuniti in consiglio per decidere di ucciderti fuggi questo è un buon consiglio uscì dalla città timoroso e guardingo disse signore salvami da questo popolo ingiusto dirigendosi verso Madian disse spero che il mio signore mi guidi sulla retta via quando giunse all'acqua di Madian vi trovò una moltitudine di uomini che abbeverava e scorse due donne che si tenevano in disparte trattenendo i loro animali disse cosa vi succede? risposero non abbevereremo finché i pastori non saranno partiti nostro padre è molto vecchio abbeverò per loro poi si mise all'ombra e disse davvero signore ho molto bisogno di qualsiasi bene che farai scendere su di me una delle due donne gli si avvicinò timidamente disse mio padre ti invita a ricompensarti di aver abbeverato per noi quando giunse al suo cospetto e gli raccontò la sua storia disse il vecchio non temere sei sfuggito a gente ingiusta una di quelle disse oh padre mio assumilo è davvero il migliore che tu possa assoldare è forte e fidato disse vorrei sposarti a una di queste mie figlie a condizione che tu mi serva per otto anni se vorrai restare dieci anni sarà di tua spontanea volontà non ti imporrò nulla di gravoso e se Allah vuole troverai che sono un uomo del bene rispose questo sarà tra me e te qualunque dei due termini compirò nessuna colpa mi sarà rinfacciata Allah sia garante di quello che diciamo quando Mosè si mise in viaggio con la famiglia dopo aver concluso il periodo scorse un fuoco sul fianco del monte disse la sua famiglia aspettate ho visto un fuoco forse vi porterò qualche notizia o un tizzone acceso sì che possiate riscaldarvi quando giunse Colà fu chiamato dal lato destro della valle un lembo di terra benedetta dal centro dell'albero oh Mosè sono io Allah il signore dei mondi e getta il tuo bastone quando lo vide contorcersi come fosse un serpente volse le spalle ma non tornò sui suoi passi oh Mosè avvicinati e non aver paura tu sei uno dei protetti infila nel tuo seno la tua mano la trarrai bianca senza male alcuno stringi il braccio al petto contro il terrore ecco due prove del tuo signore per faraone e per i suoi notabili davvero è un popolo perverso disse signore ho ucciso uno di loro e temo che mi uccidano mio fratello Ronne a lingua più eloquente della mia mandalo insieme con me come aiutante e per rafforzarmi davvero temo che mi trattino da bugiardo disse Allah rafforzeremo il tuo braccio con tuo fratello e daremo entrambi autorità non potranno toccarvi grazie ai nostri segni voi due e quelli che vi seguiranno sarete vittoriosi quando poi Mosè giunse loro con i nostri segni evidenti dissero non è altro che artificio di magia non abbiamo mai sentito parlare di ciò neppure dei nostri più lontani antenati e disse Mosè il mio signore conosce meglio chi è giunto da parte sua con la guida e a chi appartiene l'ultima dimora in verità gli ingiusti non avranno successo disse Faraone o notabili per voi non conosco altra divinità che me o Haman accendi un fuoco sull'argilla e costruiscimi una torre chissà che non ascenda fino al dio di Mosè io penso che sia un bugiardo fu superbo sulla terra senza ragione e le sue armate insieme con lui e davvero credevano che non sarebbero stati ricondotti a noi lo afferrammo lui ai suoi soldati e li gettammo nelle onde guarda qual è stata la fine degli ingiusti ne facemmo guide che invitano al fuoco e nel giorno della resurrezione non saranno soccorsi li perseguimmo con una maledizione in questo mondo e nel giorno della resurrezione saranno quelli di cui si avrà orrore dopo aver distrutto le generazioni precedenti in vero abbiamo dato il libro a Mosè richiamo alla corretta visione per gli uomini guida e misericordia se ne ricorderanno tu non eri sul lato occidentale quando demmo l'ordine a Mosè tu non eri fra i testimoni abbiamo creato generazioni la cui vita si prolungò tu non dimoravi tra la gente di Madian per recitare loro i nostri segni siamo stati noi a inviare i messaggeri e non eri sul fianco del monte quando chiamammo ma sei giunto come una misericordia da parte del tuo signore affinché tu ammonisca un popolo al quale non giunse alcun ammonitore prima di te se una disgrazia li colpisce per quel che le loro mani hanno commesso dicono signore perché mai non ci hai inviato un messaggero avremmo seguito i tuoi segni e saremmo stati credenti ma quando giunse loro la verità da parte nostra hanno detto perché non gli è stato dato quello che è stato dato a Mosè ma già non furono increduli di quello che fu dato a Mosè dicono due magie che si sostengono a vicenda e dicono sì non crediamo in nessuna di portate da parte di Allah un libro che sia migliore guida di entrambi che lo possa seguire portatelo se siete veridici e se non ti rispondono sappi allora che seguono solo le loro passioni niente di più chi è più sviato di chi segue la sua passione senza guida alcuna da parte di Allah in verità Allah non guida gli ingiusti e già facemmo giungere loro la parola affinché ricordassero coloro ai quali abbiamo dato il libro prima che a lui credono in esso quando glielo si recita dicono noi crediamo in esso questa è la verità proveniente dal nostro signore già eravamo sottomessi a lui prima che giungesse essi sono coloro cui verrà data ricompensa doppia per la loro perseveranza per aver respinto il male con il bene e per essere stati generosi di quello che noi abbiamo concesso loro quando sentono discorsi vani se ne allontanano dicendo a noi le opere nostre e a voi le opere vostre pace su di voi noi non cerchiamo gli ignoranti non sei tu che guidi coloro che ami è Allah che guida chi vuole lui egli ben conosce coloro che sono ben guidati e dicono se seguissimo la guida insieme con te saremmo scacciati dalla nostra terra non li abbiamo forse resistabili in un territorio inviolabile verso il quale sono recati ogni genere di frutti provvidenza da parte nostra ma la maggior parte di essi non sanno e quante città abbiamo distrutto che erano ingrate pur vivendo nell'abbondanza ecco le loro case che non sono più abitate o quasi siamo noi l'erede finale non si addice al tuo signore distruggere una comunità prima di aver suscitato nella madre delle città un inviato che reciti loro i nostri segni noi distruggiamo le città solo quando i suoi abitanti sono ingiusti tutti i beni che vi sono stati concessi non sono che un prestito di questa vita un ornamento per essa mentre quello che è presso Allah è migliore e duraturo non comprendete dunque colui al quale facemmo una bella promessa e che la incontrerà è forse paragonabile a colui cui diamo godimento effimero in questa vita e che nel giorno della resurrezione sarà di quelli che saranno condotti al fuoco Allah dirà loro il giorno che li chiamerà dove sono coloro che pretendevate essere miei consoci coloro sui quali si realizzerà il decreto diranno ecco signore quelli che abbiamo traviato li abbiamo traviati come abbiamo traviato noi stessi li rinneghiamo al tuo cospetto non siamo noi che si adoravano verrà detto invocate i vostri associati li chiameranno ma essi non risponderanno quando vedranno il castigo desidereranno di aver seguito la retta via Allah dirà loro il giorno che li chiamerà e cosa avete risposto agli inviati in quel giorno i loro argomenti saranno oscuri e non si porranno alcuna questione chi invece si sarà pentito avrà creduto e compiuto il bene forse sarà tra coloro che avranno riuscita il tuo signore crea ciò che vuole e sceglie ciò che vuole a loro invece non appartiene la scelta gloria ad Allah egli è ben più alto di quello che gli associano il tuo signore conosce ciò che celano i loro cuori e quello che palesano egli è Allah non c'è Dio all'infuori di lui sia lodato in questo mondo e nell'altro a lui appartiene il giudizio e a lui sarete ricondotti di cosa credete se Allah vi desse la notte continua fino al giorno della risurrezione quale altra divinità all'infuori di Allah potrebbe darvi la luce non ascoltate dunque di cosa credete se Allah vi desse il giorno continuo fino al giorno della risurrezione quale altra divinità all'infuori di Allah potrebbe darvi una notte in cui possiate riposare non osservate dunque è grazie alla sua misericordia che stabilisce per voi la notte e il giorno affinché possiate riposare e procurarvi la sua grazia e affinché gli siate riconoscenti Allah dirà loro il giorno che li chiamerà dove sono coloro che pretendevate essere miei associati da ogni comunità trarremo un testimone e poi diremo producete la vostra prova sapranno allora che la verità appartiene ad Allah e quello che avevano li abbandonerà in vero Karun faceva parte del popolo di Mosè ma poi si rivoltò contro di loro gli avevamo concesso tesori le cui sole chiavi sarebbero state pesanti per un manipolo di uomini robusti gli disse la sua gente non essere tronfio in verità Allah non ama i superbi cerca con i beni che Allah ti ha concesso la dimora ultima non trascurare i tuoi doveri in questo mondo si benefico come Allah lo è stato con te e non corrompere la terra Allah non ama i corruttori rispose ho ottenuto tutto ciò grazie alla scienza che possiedo ignorava forse che già in precedenza Allah aveva fatto perire generazioni ben più solide di lui e ben più numerose i malfattori non saranno interrogati a proposito delle loro colpe poi uscì mostrandosi al suo popolo in tutta la sua pompa coloro che bramavano questa vita dissero disgraziati noi se avessimo quello che è stato dato a Karun gli è stata certo data immensa fortuna coloro che invece avevano avuto la scienza dissero guai a voi la ricompensa di Allah è la migliore per chi crede e compie il bene ma essa viene data solo a quelli che perseverano facemmo sì che la terra lo inghiottisse lui e la sua casa e non vi fu schiera che lo aiutasse contro Allah non poté soccorrere se stesso e coloro che la vigilia si auguravano di essere al posto suo dissero ah è ben evidente che Allah concede con l'arghetto o lesina a chi vuole tra i suoi servi se Allah non ci avesse favorito certamente ci avrebbe fatto sprofondare ah è ben evidente che i miscredenti non prospereranno questa dimora ultima la riserviamo a coloro che non vogliono essere superbi sulla terra e non seminano corruzione l'esito finale appartiene ai timorati di Allah chi verrà con il bene avrà meglio ancora chi verrà con il male sappia che coloro che avranno commesso il male saranno ricompensati per ciò che avranno fatto in verità colui che ti ha imposto il Corano ti ricondurrà al luogo del ritorno di il mio signore conosce meglio chi viene con la guida e chi è in manifesto errore tu non speravi che ti sarebbe stato rivelato il libro è stato solo per la misericordia del tuo signore dunque non essere mai un sostegno per i miscredenti e non ti distolgano dei segni di Allah dopo che sono stati fatti scendere su di te invita al tuo signore e non essere uno degli associatori non invocare nessun altro dio insieme con Allah non c'è Dio all'infuori di lui tutto perirà eccetto il suo volto a lui appartiene il giudizio e a lui sarete ricondotti sura ventinovesima alif laam mim gli uomini credono che li si lascerà dire e noi crediamo senza metterli alla prova già mettemmo alla prova coloro che li precedettero Allah conosce perfettamente coloro che dicono la verità e conosce perfettamente i bugiardi o forse coloro che commettono cattive azioni credono di poterci sfuggire quanto giudicano male chi spera di incontrare Allah sappia che in verità il termine di Allah si avvicina egli è colui che tutto ascolta e conosce e chi lotta è per se stesso che lotta che in verità Allah basta se stesso non ha bisogno del creato cancelleremo i peccati di coloro che credono e compiono il bene e li ricompenseremo delle loro azioni migliori ordinammo all'uomo di trattare bene suo padre e sua madre e se essi ti vogliono obbligare ad associarmi ciò di cui non hai conoscenza alcuna non obbedir loro a me ritornerete e vi informerò su quello che avete fatto e coloro che credono e compiono il bene li faremo entrare tra i devoti fra gli uomini vi è chi dice noi crediamo in Allah ma non appena soffrono per la causa di Allah considerano la persecuzione degli uomini un castigo di Allah quando giunge poi l'ausilio del loro signore dicono noi eravamo con voi forse che Allah non conosce meglio ciò che c'è nei petti delle creature Allah conosce perfettamente i credenti e perfettamente conosce gli ipocriti i miscredenti dicono a coloro che credono seguite il nostro sentiero porteremo noi il peso delle vostre colpe ma non porteranno affatto il peso delle loro colpe in verità sono dei bugiardi porteranno i loro carichi e altri carichi oltre loro nel giorno della risurrezione saranno interrogati su quello che inventavano già inviamo Noè al suo popolo rimase con loro mille anni meno cinquant'anni li colpì poi il diluvio perché erano ingiusti salvammo lui e i compagni dell'arca ne facemmo un segno per i mondi e ricorda Abramo quando disse al suo popolo adorate Allah e temetelo è il bene per voi se lo sapeste voi adorate idoli in luogo di Allah e inventate una menzogna coloro che adorate all'infuori di Allah non sono in grado di provvedere a voi in nulla cercate provvidenza presso Allah adoratelo e siate gli riconoscenti a lui sarete ricondotti e se tacciate di menzogna già altre comunità lo fecero prima di voi al messaggero non incombe che la trasmissione esplicita non vedono come Allah inizia la creazione e la reitera ciò è facile per Allah di percorrete la terra e guardate come egli ha dato inizio alla creazione poi sarà Allah a dare origine all'ultima generazione Allah è onnipotente castiga chi vuole e usa misericordia a chi vuole a lui sarete ricondotti non potrete sminuire la sua potenza né sulla terra né in cielo all'infuori di Allah non c'è per voi né padrone né difensore quelli che non credono nei segni di Allah e nell'incontro con lui non hanno speranza nella mia misericordia avranno doloroso castigo la sola risposta del suo popolo fu uccidetelo o bruciatelo ma Allah lo salvò dal fuoco questi sono segni per un popolo che crede disse in vero non avete adottato gli idoli all'infuori di Allah se non per amore reciproco in questo mondo poi nel giorno della resurrezione gli uni disconosceranno gli altri e gli uni malediranno gli altri vostra dimora sarà il fuoco e non avrete chi vi soccorrerà Lot credette in lui e disse sì e migro verso il mio signore egli è l'eccelso il saggio concedemmo ad Abramo Isacco e Giacobbe e nella sua progenie stabilimmo la profezia e il libro gli pagammo la sua mercede in questa vita e nell'altra sarà tra i giusti e quando Lot disse al suo popolo davvero commettete una torpitudine che mai nessuno al mondo ha commesso prima di voi concupite i maschi vi date al brigantaggio e perpetrate le azioni più nefande nelle vostre riunioni la sola risposta del suo popolo fu attira su di noi il castigo di Allah se sei uno che dice il vero disse mio signore dammi la vittoria su questo popolo di perversi e quando i nostri angeli portarono ad Abramo la lieta novella dissero sì abbiamo l'incarico di annientare gli abitanti di questa città poiché in verità sono ingiusti disse ma colà abita Lot risposero ben conosciamo chi vi abita lo salveremo lui e la sua famiglia eccetto sua moglie che sarà tra coloro che rimarranno indietro quando i nostri angeli giunsero presso Lot egli ebbe pena per loro e si sentì incapace di proteggerli dissero non temere e non affliggerti siamo incaricati di salvare te e la tua famiglia eccetto tua moglie che sarà tra coloro che rimarranno indietro in verità siamo mandati per far cadere dal cielo un castigo sugli abitanti di questa città per la loro turpitudine già ne abbiamo fatto un segno evidente per coloro che capiscono e ai magianiti mandammo il loro fratello Schweib che disse loro oh popol mio adorate Allah e sperate nell'ultimo giorno non commettete crimini sulla terra non siate malfattori lo trattarono da bugiardo li colpì il cataclisma e il mattino li trovò che giacevano senza vita nelle loro case ugualmente accadde agli ad e famud provane siano per voi le loro abitazioni satana abbellì agli occhi loro le loro azioni e li sviò dalla retta via nonostante fossero stati invitati ad essere lucidi ugualmente accadde a carun e faraone e haman quando mosè portò loro le prove ma furono superbi sulla terra non poterono sfuggirci ognuno colpimmo per il suo peccato contro alcuni mandammo un ciclone altri furono trafitti dal grido altri facemmo inghiottire dalla terra e altri annegammo Allah non fece loro torto furono essi a far torto a loro stessi coloro che si sono presi patroni all'infuori di Allah assomigliano al ragno che si è dato una casa ma la casa del ragno è la più fragile delle case se lo sapessero in verità in verità l'orazione preserva dalla turpitudine e da ciò che è riprovevole il ricordo di Allah è certo quanto ci sia di più grande Allah conosce perfettamente quello che operate non dialogate se non nella maniera migliore con la gente della scrittura eccetto quelli di loro che sono ingiusti dite loro crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi il nostro dio e il vostro sono lo stesso dio ed è a lui che ci sottomettiamo così abbiamo fatto scendere su di te il libro coloro ai quali abbiamo dato il libro credono in esso e anche tra loro c'è chi crede solo i miscredenti negano i nostri segni prima di questo non recitavi alcun libro e non scrivevi con la tua destra che altrimenti coloro che negano la verità avrebbero avuto dubbi sono invece chiari segni custoditi nei cuori di coloro ai quali è stata data la scienza solo gli ingiusti negano i nostri segni e dissero perché non sono stati fatti scendere su di lui segni da parte del suo signore di i segni sono solo presso all'ah io non sono che un ammonitore esplicito non basta loro che ti abbiamo rivelato il libro che recitano questa è davvero una misericordia un monito per coloro che credono di mi basta all'ah come testimone tra me e voi lui che conosce tutto ciò che è nei cieli e sulla terra coloro che credono alla falsità e negano all'ah saranno i perdenti ti chiedono di affrettare il castigo se non ci fosse un termine stabilito già sarebbe giunto il castigo verrà loro all'improvviso senza che ne abbiano sentore cercano di farti affrettare il castigo sarà l'inferno a circondare i miscredenti nel giorno in cui il castigo li avvolgerà da sopra e da sotto i piedi e dirà loro gustate le conseguenze di quello che avete fatto o miei servi credenti in verità è grande la mia terra adoratemi ogni anima dovrà provare la morte e poi sarete ricondotti verso di noi quanto a coloro che credono e operano il bene li porremo in alti luoghi del paradiso sotto i quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo quanto è meraviglioso il premio di chi opera il bene di coloro che perseverano e hanno fiducia nel loro signore quanti esseri viventi non si preoccupano del loro nutrimento è Allah che nutre loro e voi è lui che tutto ascolta e conosce se domandi loro chi ha creato i cieli e la terra e ha sottomesso il sole e la luna certamente risponderanno Allah perché poi si distolgono dalla retta via Allah provvede con larghezza a chi vuole tra i suoi servi oppure l'esina in verità Allah conosce ogni cosa se domandi loro chi fa scendere l'acqua dal cielo e ridà vita alla terra che già era morta certamente risponderanno Allah di la lode appartiene da Allah ma la maggior parte di loro non ragiona questa vita terrena non è altro che gioco e trastullo la dimora ultima è la vera vita se solo lo sapessero quando salgono su una nave invocano Allah rendendogli un culto sincero quando poi li rimette in salvo sulla terra ferma gli attribuiscono dei consoci per disconoscere quel che noi abbiamo concesso loro e per effime rigodimenti ben presto sapranno non vedono forse che abbiamo dato loro un territorio inviolabile mentre tutto attorno la gente è depredata crederanno dunque al falso e disconosceranno i favori di Allah chi è peggiore ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah o che smentisce la verità quando essa gli è giunta non c'è forse nell'inferno una dimora per i miscredenti quanto a coloro che fanno uno sforzo per noi li guideremo sulle nostre vie in verità Allah è con coloro che fanno il bene sura trentesima alif lam mim sono stati sconfitti i romani nel paese limitrofo ma poi dopo essere stati vinti saranno vincitori tra meno di dieci anni appartiene ad Allah il destino del passato e del futuro e in quel giorno i credenti si rallegreranno dell'aiuto di Allah e gli aiuta chi vuole e gli è l'eccelso il misericordioso promessa di Allah Allah non manca la sua promessa ma la maggior parte degli uomini non sa non ha non ha non ha non ha non ha non ha riflettuto in loro stessi Allah ha creato i cieli e la terra e tutto ciò che vi è fra mezzo secondo verità e per un termine stabilito molti uomini però non credono nell'incontro con il loro signore non hanno forse viaggiato sulla terra e visto quel che è accaduto a coloro che li hanno preceduti erano più forti di loro e avevano coltivato e popolato la terra più di quanto essi non l'abbiano fatto giunsero con prove evidenti messaggeri della loro gente non fu Allah a far loro torto furono essi a far torto a se stessi e fu triste il destino di quelli che fecero il male smentirono i segni di Allah e li schernirono è Allah che dà inizio la creazione e la reitera quindi a lui sarete ricondotti il giorno in cui si leverà l'ora saranno disperati i colpevoli e non avranno più intercessori tra coloro che associavano ad Allah ma rinnegaranno le loro stesse divinità e il giorno in cui giungerà l'ora in quel giorno verranno separati coloro che avranno creduto e compiuto il bene gioiranno in un prato fiorito mentre coloro che saranno stati miscredenti e avranno tacciato di menzogne i nostri segni e l'incontro nell'altra vita saranno condotti al castigo rendete gloria ad Allah alla sera e al mattino a lui la lode nei cieli e sulla terra durante la notte e quando il giorno comincia a declinare dal morto trae il vivo e dal vivo trae il morto e ridà vita alla terra che già era morta così vi si farà risorgere fa parte dei suoi segni l'avervi creati dalla polvere ed eccovi uomini che si distribuiscono sulla terra fa parte dei suoi segni l'aver creato da voi per voi delle spose affinché riposiate presso di loro e ha stabilito tra voi amore e tenerezza ecco davvero dei segni per coloro che riflettono e fan parte dei suoi segni la creazione dei cieli e della terra la varietà dei vostri idiomi e dei vostri colori in ciò vi sono segni per coloro che sanno e fan parte dei suoi segni il sonno della notte e del giorno e la vostra ricerca della sua grazia ecco davvero dei segni per coloro che sentono e fa parte dei suoi segni farvi scorgere il lampo con timore e brama e far scendere dal cielo l'acqua con la quale ridà vita alla terra che già era morta ecco davvero segni per coloro che ragionano e fa parte dei suoi segni che il cielo e la terra si tengan ritti per ordine suo quando poi vi chiamerà ad un solo richiamo ecco che sorgerete dalle tombe appartengono a lui tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra tutti gli obbediscono egli è colui che inizia la creazione e la reitera e ciò gli è facile a lui appartiene la similitudine più sublime nei cieli e sulla terra e lui l'eccelso il saggio da voi stessi trae una similitudine ci sono tra gli schiavi che possedete alcuni che fate vostri soci al pari in ciò che all'avia concesso li temete forse quanto vi temete a vicenda così esplicitiamo i nostri segni per coloro che ragionano gli ingiusti cedono invece alle loro passioni senza sapere chi può guidare colui che Allah allontana essi non avranno chi li soccorra rivolgi il tuo volto alla religione come puro monoteista natura originaria che Allah ha connaturato agli uomini non c'è cambiamento nella creazione di Allah ecco la vera religione ma la maggior parte degli uomini non sa ritornate a lui temetelo assolvete all'orazione e non siate associatori e neppure siate tra coloro che hanno scisso la loro religione e hanno formato sette ognuna delle quali è tronfia di quello che afferma quando un male colpisce gli uomini invocano il loro signore e tornano a lui quando poi li gratifica con una misericordia che proviene da lui alcuni di loro li attribuiscono consoci così da rinnegare quello che abbiamo dato loro godete dunque presto saprete abbiamo forse fatto scendere su di loro un'autorità che dia loro ragione di ciò che gli associano quando gratifichiamo gli uomini di una misericordia se ne rallegrano se poi li coglie una disgrazia per ciò che le loro mani hanno perpetrato ecco che se ne disperano non hanno visto che alla dona con larghezza chi vuole e lesina anche questi sono segni per coloro che credono riconosci il loro diritto al parente al povero e al viandante diserdato questo è il bene per coloro che bramano il volto di Allah questi sono coloro che prospereranno ciò che concedete in usura affinché aumenti a detrimento dei beni altrui non li aumenta affatto presso Allah quello che invece dati nell'emosina bramando il volto di Allah ecco quel che raddoppierà Allah è colui che vi ha creati poi vi ha nutriti poi vi darà la morte quindi vi darà la vita c'è una delle vostre divinità che faccia qualcuna di queste cose gloria a lui egli è ben più alto di ciò che gli associano la corruzione è apparsa sulla terra e nel mare a causa di ciò che hanno commesso le mani degli uomini affinché Allah faccia gustare parte di quello che hanno fatto forse ritorneranno sui loro passi di percorrete la terra e considerate ciò che è avvenuto a coloro che vi hanno preceduto la maggior parte di loro erano associatori rivolgi il tuo volto alla vera religione prima che da Allah venga un giorno che non sarà possibile respingere in quel giorno saranno separati chi sarà stato miscredente la sua miscredenza gli si rivolgerà contro quanto a chi avrà compiuto il bene è per se stesso che avrà preparato così Allah ricompenserà con la sua grazia coloro che hanno creduto e compiuto il bene in verità egli non ama i miscredenti e fa parte dei suoi segni mandare i venti come nunzi per farvi gustare la sua misericordia e far navigare la nave al suo comando sì che possiate procurarvi la sua grazia forse sarete riconoscenti già mandammo prima di te messaggeri e loro popoli e vennero loro con prove evidenti poi ci vendicammo di quelli che commettevano crimini nostra cura è soccorrere i credenti Allah è colui che invia i venti che sollevano una nuvola la distende poi nel cielo come vuole e la frantuma e vedi allora le gocce uscire dei suoi recessi quando poi ha fatto sì che cadano su chi vuole tra i suoi servitori questi ne traggono lieta novella anche se prima che cadessero su di loro erano disperati considera le tracce della misericordia di Allah come egli ridà la vita ad una terra dopo che era morta egli è colui che fa rivivere i morti egli è onnipotente se inviassimo loro un vento che ingiallisse le coltivazioni rimarrebbero ingrati tu non potrai far sì che sentano i morti o far sì che i sordi sentano il richiamo quando ti volgono le spalle non sei tu a guidare i ciechi dal loro obnubilamento solo potrai far udire quelli che credono nei nostri segni e sono sottomessi Allah è colui che vi ha creati deboli e quindi dopo la debolezza vi ha dato la forza e dopo la forza vi riduce la debolezza alla vecchiaia egli crea quello che vuole egli è il sapiente il potente il giorno in cui sorgerà l'ora giureranno i criminali di non essere rimasti che un'ora già mentivano sulla terra mentre coloro cui fu data la scienza e la fede diranno voi rimaneste come stabilito nel libro di Allah fino al giorno della ressurrezione ecco il giorno della ressurrezione ma voi nulla sapete in quel giorno le scuse saranno inutili a coloro che furono ingiusti non saranno ascoltati in questo corano abbiamo proposto agli uomini ogni specie di metafora quando però porti loro un segno i miscredenti diranno non siete altro che impostori così Allah sigilla i cuori di coloro che nulla conoscono sopporta dunque con pazienza o Muhammad la promessa di Allah è veritiera e non ti rendano leggero coloro che non hanno certezza